Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del Caffè della Salute con Cucina Naturale. Oggi siamo in compagnia della mia cucina di Venezia Villani, direttore di Cucina Naturale e con lei parleremo di un prodotto buonissimo che arriva dalla cucina asiatica che si chiama gommasio. Di cosa si tratta questo gommasio? Che cos'è? Il gommasio è un condimento, arriva dal Giappone ed è composto da semi di sesamo e sale. In una percentuale, in genere diciamo quello classico, è di sette parti di semi di sesamo per una parte di sale. È un'ottima alternativa al sale puro, proprio perché c'è un percentuale minore, anche perché il sesamo viene tostato e macinato e quindi è saporito, quindi da gusto lui e quindi richiede meno sale. Si può usare in tantissimi piatti, nelle insalate, nelle verdure grigliate, io lo metto anche nella pasta, quando faccio la pasta con i broccoli invece che il parmigiano. Si può usare sempre? Si può usare anche perché è veramente buono di gusto ed è appunto uno dei modi che si possono applicare per ridurre il consumo di sale. Quindi anche adatto alle persone che devono fare magari una dieta iposodica. Assolutamente. Possiamo prepararcelo in casa? È molto semplice, si può acquistare, chiaramente. Nei supermercati ancora non lo vedo, però appunto nei supermercati si può prendere invece un sacchetto di semi di sesamo. Ormai lo ritroviamo negli scaffali. Anche perché è anche nella nostra tradizione, pensiamo al pane siciliano o a certi dolci siciliani che appunto usano il sesamo. Dicevo, il sesamo è consigliabile per tanti motivi perché è un seme e ha quindi un po' tutte le caratteristiche dei semi, cioè è ricco di vitamine del gruppo B, poi è ricco di proteine, è ricco di calcio anche. Quindi già in sé è un ingrediente... Omega 3. Omega 3 assolutamente. Antissidanti. Cioè non è soltanto un'alternativa buona al sale, ma è una cosa buona in sé. Certo. E dicevo, per farlo in casa ci vuole veramente poco, nel senso che basta avere il sesamo, tostarlo leggermente perché sennò prende un sapore metallico amaro che non è buono, e poi schiacciarlo con il pestello o con il sale, cioè io lo faccio ogni tanto insomma perché viene più buono quando è appena fatto, più profumato. E in più si può pensare di ridurre ancora di più il sale. Esatto, è un'altra domanda. Possiamo andare poi pian piano a variare la nostra ricetta? Assolutamente, cioè si può proprio fare in quest'ottica, no? Io ho iniziato con la percentuale 7 a 1, che è quella classica, che è quella anche che si trova nei prodotti acquistati, e poi il sale è andato riducendosi. Abituandoci a meno quantitativo di sale, riusciamo quindi poi a ridurlo. Quindi fa anche bene, sempre per la salute, ridurre un pochino il sale nella dieta. Venezia, grazie di averci spiegato questo condimento un po' strano, si sentiva un po' parlare ma non lo conoscevamo bene. Grazie, alla prossima allora. Grazie a voi.